A nove mesi dalla Brexit, ora i cittadini britannici hanno una data. La Premier Theresa May ha annunciato che il 29 marzo il Governo del Regno Unito attiverà l'articolo 50 del Trattato di Lisbona, notificando ufficialmente la volontà di uscita del Regno Unito dall'Unione Europea. Una scadenza fissata l'autunno scorso dalla stessa May e che dopo alcune resistenze ha ottenuto il via libera del Parlamento e la firma della regina Elisabetta. Intanto Darwin Street la prossima settimana invierà una lettera ai 27 stati membri. Da quel momento serviranno circa due anni perché la Brexit sia effettiva, con relative discussioni tra autorità europee e britanniche per stabilirne termini e modalità. Se tutto andrà come previsto, il Regno Unito uscirà ufficialmente dalla UE entro il 29 marzo 2019, a meno che entrambe le parti, Londra e Bruxelles, non decidano di prolungare la trattativa. Senza contare però che ora sul negoziato pesa la proposta di un referendum per l'indipendenza della Scozia dal Regno Unito. Da Bruxelles nel frattempo fanno sapere di essere pronti al negoziato, come dichiarato dalla portavoce della Commissione Europea, Sinas, confermando che sulla data l'esecutiva è stato informato in anticipo da Londra. Siamo pronti a iniziare, ha aggiunto Sinas, specificando che la richiesta formale sarà indirizzata al Presidente del Consiglio Europeo, Tusk. Intanto, oltre manica, crescono i timori di una disintegrazione del Regno Unito. Secondo alcuni sondaggi della City, il 54% dei britannici ritiene questa eventualità alquanto probabile.